Entrati in campo delle due compagini, Valdisangro squadra B e Virtus Castelfrentano, direttore di gara, la signorina bomba Annalisa della sezione AIA di Lanciano, penultima di campionato, non fa classifica. Si salutano. I giocatori, il servito del saluto agli ragazzi della panchina, si salutano tutti, sentono in campo, se volete vi potete fare pure una foto, tanto si è ancora là. Pronti per iniziare? In bocca al lupo! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!